Allora, grazie per essere rientrati rapidamente come eravamo d'accordo e praticamente puntuali. Vogliamo infatti seguire una scaletta abbastanza precisa in modo da lasciare tempo poi anche a chiacchierare insieme in chiusura. Spero che molti di voi si tratterranno. È spesso un momento di confronto importante. Si scoprono sinergie, serendipità, incontri anche interessanti. E vorrei richiamare sul palco i nostri amici che hanno presentato prima, Monica, Jonathan ed Elena, per scambiare due battute. Se avete delle domande rispetto a quelle che avete sentito prima, avremo qualche minuto anche per raccogliere appunto qualche vostra domanda e far loro rispondere. Mentre vi preparate, magari raccogliendo qualche idea, qualche pensiero, ne anticipo io due o tre. Poi vediamo se intanto vi sono venute in mente altre. Monica, io ho visto, non so quanti di voi sanno, è da diversi anni che si svolgono, il 12 aprile se non sbaglio, 14, non mi ricordo il giorno esatto, ogni anno è chiamato Yuri's Night, la notte da Yuri Gagarin, appunto ricordando il primo volo umano nello spazio. Si svolgono centinaia di manifestazioni in tutto il mondo, è una cosa molto bella. E nove anni fa ero a Budapest e guardando, non so se su Meetup o qualcosa del genere, guardando cosa stava succedendo in città quella sera, ho visto che c'erano delle riunioni, appunto una delle riunioni era di Yuri's Night, sono andato, e dieci anni fa per la prima volta ho sentito parlare dei microsatelliti, dei CubeSat. E che quindi sono una piattaforma che esisteva già allora, che cosa è cambiato da allora? Che cosa abbiamo oggi che possiamo fare che allora non era possibile? Sì, beh all'inizio appunto i CubeSat sono nati per rispondere a un'esigenza di ridurre soprattutto i costi di lancio, quindi lanciare costa tanto e quindi si cercava soprattutto per le università, gli enti di ricerca che non potevano investire i milioni al chilo per poter lanciare questi bestioni in orbita, di ridurre il più possibile le dimensioni del satellite. Quindi si è partiti con una unità, con due unità, con tre unità e all'inizio però erano appunto principalmente quasi visti un po' come un gioco dagli operatori satellitari e ci si poteva fare ben poco, quindi scattare qualche foto, ma più di bellezza che altro, piuttosto che sì, effettuare comunicazioni, ma non vendibili dal punto di vista commerciale. Adesso invece le cose sono cambiate, ci si può effettivamente affidare una piattaforma di questo tipo per tutta una serie di servizi che sono un po' quelli che dicevamo prima e soprattutto lo si può fare ai limiti della fisica, perché la miniaturizzazione ci permette di mettere dei sensori piccolissimi sui satelliti, poi chiaramente dipenderà dall'orbita dove possono essere posizionati e si riuscirà a ottenere anche delle risoluzioni appunto di 10 metri, 5 metri, quindi a tutti gli effetti riescono e stanno sempre di più riuscendo a sostituire tanti tizi satellitari che prima erano soltanto dedicati a satelliti di 50, 100, 150 chili. Una cosa che i CubeSat oggi non hanno, se non sbaglio, è una propulsione a bordo. È prevedibile secondo te che una prossima generazione di CubeSat invece si possa dotare di qualche tipo di propulsore ionico per esempio? Sì, assolutamente sì, a parte l'azienda di Elena fa proprio questo, quindi magari adesso faccio raccontare un po' meglio lei. Mi ricordo c'era una foto del vostro propulsorino che avevi proprio proiettato. Ecco Elena, racconta un po' più magari anche in visione, in futuro, che cosa ti aspetti da quello che oggi sta partendo ma che magari fra 10 anni o 20 anni arriverà alla sua piena potenza. Sì, diciamo che proprio questi nanosatelliti oggi ci sono tante in realtà aziendali e start-up che si stanno affacciando nel mercato proponendo dei sistemi di propulsione miniaturizzati. Un po' e anche le aziende già presenti nel mercato che fanno propulsione vedendo questo trend e vedendo nel mercato stanno cercando di miniaturizzare i loro sistemi propulsivi. Però come dicevo prima, i sistemi di propulsione sono credo il sottosistema della piattaforma satellitare più costosa e complessa. Quindi non è sempre vincente pensare di miniaturizzare delle tecnologie che vanno bene per satelliti più grandi. Quindi quello che stiamo facendo, la tecnologia su cui stiamo lavorando, va proprio in questo senso. Il fatto di riuscire a dotare questi satelliti di un sistema propulsivo che gli permetta sia di essere inseriti nell'orbita esatta, di potersi muovere nello spazio, di poter poi rientrare a terra. E quindi non è comunque pensabile riuscire a pensare ad un satellite così piccolo con più sistemi di propulsione a bordo, non ci sarebbe più spazio per il payload. E come dicevo non è altrettanto pensabile di poter spendere 300.000 euro di un sistema propulsivo quando tutto il satellite ne costa 100.000. C'è qualcosa che non va. Quindi la challenge è proprio qui. Anche questi tipi di sistemi di propulsione in realtà elettrica prendono l'energia dal satellite e quindi dal pannello solari. È chiaro che essendo un satellite più piccolo ha delle potenze inferiori e quindi le performance di conseguenza del sistema propulsivo si devono adeguare a questo. Ci sono una serie di problematiche tecniche di costo e di dimensioni che devono andare insieme altrimenti la cosa non si fa. Perfetto. E Jonathan, qualche esempio di applicazione che magari appunto dieci anni fa non era possibile perché la componentistica, i sensori a bordo di questi CubeSat all'ora erano di un certo tipo ma oggi grazie al miglioramento dell'elettronica abbiamo raggiunto. Che tipo di applicazioni potreste digitare? Mi fa molto piacere questa domanda perché spesso agli incontri mi fanno una domanda abbastanza simile. I vostri droni, i droni che adesso sono tanto di moda, non possono fare la stessa cosa con un decimo del costo? Effettivamente no, però è anche vero, molto vero, che i droni e i microsatelliti possono collaborare, anzi devono collaborare. E quello di cui parlava Elena prima è la fusione dei dati provenienti da più tecnologie. E appunto possono essere i microsatelliti, i droni. Nella scuola di precisione per esempio si possono utilizzare i microsatelliti che scansionano le aree geografiche, quindi le coltivazioni, che poi attivano automaticamente i droni che vanno a irrigare piuttosto che a concimare il terreno in una determinata zona. E' molto importante, per esempio in zone poco sviluppate come quelle dell'Africa, il futuro è proprio l'automatizzazione completa delle coltivazioni, quindi anche a livello di semina, a livello di raccolta di quello che è stato seminato. Sicuramente c'è un'applicazione molto importante ed è una forza delle strade, delle uniche strade che si può percorrere per industrializzare e aiutare anche questo tipo di zone sottosviluppate, perché il costo veramente è molto inferiore. Quei satelliti e quei droni magari fanno altre decine di applicazioni, servono altre decine di aree geografiche, quindi il costo è sicuramente spalmato su... Vediamo se qualcuno ha voglia di fare una domanda a queste start-up. Ecco, eccono lì, se possiamo far arrivare il microfono. Ciao, sono Rocco. Per Jonathan, che già ci conosciamo, una domanda sulla cyber security delle vostre antenne di trasmissione, se avete dei protocolli, se prevedete in futuro eventuali evoluzioni, insomma, questo ambito. Sì, è un argomento abbastanza delicato, nel senso che attualmente le nostre stazioni non funzionano, non decodificano il segnale sulla stazione. Questo perché a livello di mercato ancora non è richiesto. La decodifica del segnale viene direttamente fatta dall'operatore, quindi il segnale che arriva dallo spazio si butta in rete ancora codificato, quindi come l'ha codificato il satellite, l'operatore è satellitare, e quindi noi non ci occupiamo di nulla, se non della demodulazione standard dei pacchetti dati. È vero anche che però, in questo modo, ma anche non facendo una selezione dei dati, si buttano in rete una mole di dati veramente impegnativa, che quindi questo è un problema sentito anche proprio a livello del cliente, chi l'operatore di Microsoft conosce questo problema. Quindi in un futuro non è assolutamente improbabile che a bordo delle stazioni ci siano sistemi di decodifica e di selezione dei materiali prima che vengano messi in rete. Questo ovviamente per diminuire la mole di dati che poi effettivamente si usa, si utilizza. Questo si fa anche a livello satellitare, quindi per esempio alcuni satellite intelligenti possono decodificare e selezionare le immagini che raccolgono anche a livello satellitare. Noi lo vorremmo fare sulle nostre stazioni, però attualmente non c'è ancora la necessità di fare questa operazione. Qualcun altro? Elena, tu stai fabbricando un microsatellite. Già. Direi di sì. Lui o lei, fra vent'anni, nel 2037, appena finito il liceo, forse al primo anno di università, poi non so che tipo di sistema scolastico ci sarà, però assumendo che sia questo stesso, viene da te e ti dice, sai mamma, io vado su Marte, e tu cosa rispondi? Allora, penso che innanzitutto farò un salto alto tre metri perché vuol dire che gli avrei trasferito la mia passione e quindi sarei felicissima e gli direi di sì con la consapevolezza che ci saranno le tecnologie e avranno già capito anche come rientrare da Marte. E questo mi metterebbe un po' più sicura, tranquilla. Grazie, grazie ancora a voi. Grazie. Passiamo alla prossima.